una domanda classica che ci viene posta è ma la carie fa male la risposta è no infatti la carie quando è iniziale è una malattia che va a sciupare a danneggiare e quindi a forare gli strati duri del dente che non sono sensibili e sono in pratica lo smalto e la dentina se invece hai dolore vuol dire molto probabilmente che la carie non solo ha bucato questi strati ma è già arrivata al nervo del dente alla polpa e quindi al 99 per cento il tuo dente dovrà essere devitalizzato quindi cosa fare per evitare che questo succeda la cosa fondamentale è la prevenzione in particolare il filo interdentale ti permette di fare un autodiagnosi perché se nel passaggio il filo si sfilaccia e emana cattivo sapore questo può essere assolutamente indice che si sta sviluppando una carie interdentale quindi rivolgiti al tuo dentista di fiducia per un controllo e una visita accurata